Poco fa c'è stato un incontro in sede, a casa Milan, tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Tiemu Bakayoko. Colloqui positivi e ora si lavora al prestito con diritto di riscatto, dopo che il Chelsea ha rinnovato in modo unilaterale il contratto del centrocampista francese fino al 2023. L'operazione ora entra nel vivo e si sono intensificati i colloqui con la squadra londinese per provare a chiudere. Per quanto riguarda Alessandro Florenzi, lui è vicinissimo dall'indossare la maglia del Milan. Come riportato da Sky Sport, infatti, mancherebbe solo un ultimo aspetto burocratico da risolvere. Dopodiché arriverà l'ok per il trasferimento del terzino della Roma. A 12 giorni dalla conclusione del mercato, il Milan è al lavoro su più fronti per rinforzare e completare la rosa a disposizione di Pioli. Tra l'attenzione per il centrocampista e quella per il trequartista, la dirigenza rossonera guarda anche alle opportunità per puntellare il gruppo rossonero. In questo senso il nome di Pellegri, uscito in mattinata, rientra in quest'ultima categoria con l'attaccante classe 2001 che potrebbe essere la celebre punta giovane, che Maldini aveva dichiarato in sede di presentazione del calendario della Serie A. Il giocatore scade nel 2022, deve quindi rinnovare prima col Monaco e poi il Milan potrebbe prenderlo in prestito.